manutenzione del vostro motore fuori bordo. Yamaha ha realizzato dei kit specifici per le varie parti del motore. Sono quattro kit, un kit manutenzione motore, un kit anodo piede, un kit pompa dell'acqua e un kit anodo motore. Togliamo la calandra e andiamo a vedere quali sono i punti chiavi per quanto riguarda la manutenzione del vostro motore. Grazie a tutti.